A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis, cari amici andiamo subito a vedere cosa succederà nella giornata di giovedì. Attenzione perché il caldo farà sul serio, avremo ovviamente, guardate, bel tempo, con cielo prevalentemente sereno, un po' su tutto il territorio o tutt'al più poco rovoloso sui rilievi, ma attenzione, guardate, temperature davvero roventi durante il giorno, temperature che aumenteranno grazie all'anticiclone africano, aumenteranno e avremo dei picchi notevoli in alcune località, ci avvicineremo anche o avremo valori anche attorno ai 40 gradi centigradi, quindi mi raccomando, prudenza per il caldo. Per il momento, cari amici, è tutto, non ho altro da aggiungere, buon proseguimento di settimana.